L'algoritmo della spremuta Cosa ci serve? Parreno l'arancia La taglio a metà La spremo Verso il succo nel bicchiere La spremuta è pronta! Ora vi spieghiamo l'algoritmo Con la stop motion Devo mettere in ordre la sequenza Ho pescato una figura Lo spremi a gomi Ora prendo la tua carta E la confronto con lo spremi a grumi Ma prima? O va dopo? Prendo un'altra figura La confronto con lo spremi a grumi E la inserisco Nel posto giusto Continuo Questa operazione Fino ad avere Una sequenza Ordinata Anda heed Allora